Quindi, allora, Meindberg. No, eh, Meindrofer. Meindsrobertraf. Meindrofer, Austria. Meindrofer, Austria. È presente? Dov'è? E allora, dunque, vai dritto fino in fondo e poi giri a sinistra. C'è la Funtaninga, vai dritto ancora. Meindrofer, Austria, 4-9 aprile. Sì, 4-9 aprile. Volvo Snowbombing. C'è una settimana di snowboard, concertini, ma con... No, è perché... Sì, c'è poca gente. Tipo 400 DJ, Fatboy Slim, Prodigy, Too Many DJs. C'è anche Rodigan. Rodigan? Il grande Rodigan. No, Rodigan è il capo del reggae. Il capo del reggae. C'è anche Rodigan a My Trumfranstai. Hai sputato. Ho visto che sono Meindrofer. Meindrofer, Meindrofer. E quindi andiamoci. Cosa ci facciamo ancora? Cosa ci fate ancora lì? Io vado adesso. Ho fatto adesso in bici. Io ci vado di sicuro. Voglio spaccarmi le gambe. Voglio arrivare con delle gambe grandi come le tue, almeno. No, non dire voglio spaccarmi le gambe. Sì, no, no, no. Nel senso voglio snowboardare tantissimo. Sì, sì. Quattro giorni di snowboard e due di sauna. Ottimo, va benissimo. Va benissimo. Tu vieni con questo affarino qua. Io vengo con questo. Parto adesso perché mi porto avanti. A voi. C'è, no, molto avanti. Mi faccio la gamba. Ci vediamo lì. Adoffo. Eh, adoffo. Ma come fa a dare tuo figlio con questo amicino? Io non riesco. Io non riesco a dare tuo figlio con questo amicino.